I Io esco è i porti non si possono aprire La troia puttano Mi chiamo fatto perdere il cuore prima in testo gioco dove lasciare giù l'anima Bastardo rimetterla Bella a tutti ragazzi io sono luca e io sono danil e oggi siamo su demon ragazzi questo gioco è un gioco horror ragazzi fa veramente paura sono di quei jumpscare all'improvviso che certo anche le scritte qua the walls have eyes non è assolutamente rassicurante i muri hanno gli occhi ma sto cazzo i muri hanno gli occhi raga prepariamoci perché è un gioco che fa veramente paura come atmosfera e anche come posto ragazzi via perché io non so qualcosa succede adesso Buongiorno Siamo pronti a spaventarci C'è qualcuno qua Guarda Guarda già vedere letti e evidenziati di verde Niente Io esco eh le porte non si possono aprire Ah puttana Ah puttana la troia puttana la troia Ehm Dio E' un gioco Mio E' un gioco Non ha fatto perdere il cuore Che' manca mi ha fatto perdere il cuore E' un gioco E' comunque lasciato giù l'anima Bastardo E' un gioco Mio E' un gioco Questo sarà solo il primo di tanti Sì Pronti Sì Scusi Mi sono perso Mi puoi indicare la strada O è troppo Scortese Raga l'atmosfera è una cosa Bruttissima Si sentono di quale canzone Ma non ignori al pericolo Andiamo avanti Ma perché bisogna scendere Si sa tutti che è negli oro Oh Cosa Oh 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 Ma qual è nel per caso arriva o no Non penso Non penso Ho capito però Ho capito che la bolletta costa Però Ragazzi 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 c'è qualcosa Spavimento Qualcosa di brutto Qua è tutto rotto Tutto rotto ragazzi Ma ci fosse almeno un'anima viva Un qualcuno che mi dice Guarda che questo posto qua è pericoloso Poi qualcuno mi dice Indichi l'uscita no Infatti l'uscita Ma che cazzo I cartelli stradali Dove sono Cazzo è quel coglione Che va in mezzo qua Io passo Ma non voglio fare del male a nessuno Secondo me Sarà un jumpscare Vanno Sono pronto Magari se ti giri Dietro di te Vaffanculo Dove sono? Guarda che mi è buggato Abbiamo scoperto un bug di questo gioco Che cazzo dobbiamo andare ragazzi? Ma mi spiegate perché qua C'è sta roba qua Questo bug Qua siamo già entrati Mi sembra Cosa cazzo bisogna fare? Certo che Bisogna fare A me bastano Anche I jumpscare Qua ci sono Ste robe qua Che tipo qua Quando cammina Rimbomba tutto Non c'è le porte Perché mi ha partito Sto casino Gente di mare Che se ne va Dove gli pare Aspetta qua non sono In Cosa è sto posto? Raga Puttana troia Puttana bastarda Non c'è Ma non si dà A scoprire Ma fa E' questa roba Raga Non 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 e su forza e coraggio andiamo avanti poi ci facciamo ancora il bug tra scatole e scatoline poi sono passati no? che cazzo? buongiorno tipo anch'io ho bisogno del tuo aiuto ma devi stare anch'io dopo il crash va bene dobbiamo aiutare devo trovare una chiave find the key find the key come cazzo troviamo la chiave adesso dov'è la chiave il bello scusate raga dov'è la chiave? tipo non potresti dirci dov'è la chiave? come cazzo faccio a trovare io la chiave? ragazzi però andate abbiamo scoperto un punto in più però la cosa buona è che ci sono veramente poche stanze da aprire non è stato messo non è stato messo cosa è nel cesso? come greg come greg all'inizio ti dico eh infatti cosa è nel cesso? che cazzo ne sai te? per terra non penso che c'è qualcosa questo posto qua come si fa a trovare le chiave? che è tutto buio tutto buio qua non c'è assolutamente niente find the key tua mamma find the key ragazzi abbiamo trovato la chiave via che cazzo è quello? raga cosa? eh? spiegatemi voi io lo prenderei come un bug eh infatti spiegatemi voi per me dovrebbe essere un jumpscare quello che dovrebbe essere possibile un momento che stazionista cosa c'è corri perché tipo t'ho trovato la chiave tieni devi aprire la porta non ho aperto eh? grazie going going to come back for me we need to give quattro 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 che l'ho mangiata save the girl dove cazzo è la ragazza? ragazzi dove è la ragazza? ragazzi quindi se il video vi è piaciuto commentate iscrivetevi e fateci sapere se questa parte vi è piaciuta e soprattutto diteci nei commenti cosa ne pensate di quel bug misterioso è successo prima vi lasciamo il link in descrizione della nostra pagina instagram e facebook da striscianotizia è tutto da piccaro piccone a voi a voi regia bella a tutti i ragazzi bella modello POPPIN BOTTLES